Vittoria facile facile per il Campopasso contro il Giulianova ormai rassegnato alla retrocessione diretta. È finita 5-0 ma poteva finire con un punteggio ancora più largo questa partita di oggi a Selvapiana. Troppa la differenza tra le due formazioni nonostante qualche assenza di troppo per la squadra di Favo. Davvero la differenza è stata molta. Passiamo subito con la cronaca visto che ci sono ben 5 reti e anche un rigore sbagliato. Al nono minuto Campopasso già in vantaggio. Bellissimo l'angolo di Lanzilotta per il colpo di testa di Ferrani che svetta altissimo. Campopasso già in vantaggio e partita già indirizzata. La squadra rosso-blu in divisa bianca gioca in scioltezza. Tredicesimo minuto tiro di Grazioso che fa le prove generali per un gol bellissimo che poi arriverà più tardi. La palla fuori di poco, un tiro da fuori aria. Al ventitresimo c'è ancora una doppia occasione di Ferrani, oggi più volte attaccante. Dopo una bella discesa di Lucchese, prima c'è la parata del portiere, poi Prome rovesciate il difensore centrale. Ma sempre il pallone finisce alto. Al ventinovesimo invece si vede per la prima volta il Giulianova. Più per una disattenzione nel campo basso però che per la reale forza degli ospiti con Emili. Un tiro cross pericoloso, 34esimo ancora Lucchese, autore di un buon primo tempo. Bella discesa sulla destra, supera due uomini, arriva al tiro finale parato. Un minuto dopo sull'angolo successivo c'è Alessandro che di testa scheggia la traversa. Poi una percussione di Silvestro al 38esimo in area, doppia parata di Grillo che dunque si sporca anche i guantoni. Al 44esimo arriva il bellissimo gol di Grazioso che dal limite dell'area può aggiustarsi il pallone, può prendere la mila e a giro beffa il portiere ospite. 2-0 dunque gara già in ghiaccio che poi si chiuderà successivamente subito nei primi minuti del secondo tempo. Infatti nel giro di due minuti il campo basso segna due volte. Al nono minuto Alessandro davanti al portiere su una bella spizzata di testa di Gabriele Oni. Tocco sotto e gol del 3-0. Un minuto dopo ancora Gabriele Oni, questa volta dopo una bella azione corale. Per il 4-0 si gioca davvero in scioltezza e il campo basso frena un po'. E così il Giuliano Nova si può far vedere con Emilia in area in mezza rovesciata. Respince ancora Grillo ma c'è il tempo ancora per un quinto gol, quello di Gabriele Oni di testa dopo un bel calcio di punizione di Lanzillotta. E al 38esimo c'è l'occasione per Alessandro per rimpinguare la sua classifica a marcatori. Alessandro si procura infatti un rigore ma poi lo sciupa malamente facendosi parare lo stesso. Finisce dunque 5-0. Il campo basso continua la sua marcia trionfale e cerca dunque di tenere il terzo posto.